Ciao Marco! Ciao Lucy! Sei andato in spogliatoio? Sì, sono andato in spogliatoio. Ok. Sei pronto per giocare il palavolo? Sì, sono pronto per giocare il palavolo. Certo, cominciamolo! Marco, attento! Cosa? Lucy, stai bene? Sì, sto bene. Grazie al cielo. Ora andiamo a cambiarci. Ok. Andiamo. Grazie a tutti. 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 Buont rathersvi il fondo Grazie a tutti